Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Abruzzo. Apriamo con la pagina di Cronaca con la strage del milanese dove un 17enne ha ucciso il fratellino di appena 12 anni, la madre e il padre. Ebbene la famiglia appena due settimane fa nel mese di agosto aveva trascorso le vacanze a Villa Rosa di Martinsicuro. Noi siamo stati sul posto, vediamo. La strage di Paderno Dugnano nella milanese dove nella notte tra sabato e domenica un 17enne ha coltellato a morte il fratellino di soli 12 anni, la madre e il padre, tocca anche il territorio abruzzese. La famiglia infatti appena qualche settimana fa aveva soggiornato nel territorio di Villa Rosa di Martinsicuro dove era solita trascorrere le vacanze. Dunque un triplice omicidio che lascia sgomenta all'intera comunità della costa teramana. Poche settimane fa la famiglia, protagonista della terribile vicenda, aveva trascorso le vacanze a Villa Rosa di Martinsicuro in uno chalet dove andavano da anni. Il titolare non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione perché è già difficile così, ha detto. Le foto sul profilo social di Daniela mostrano momenti di spensieratezza della mamma trascorsi negli anni durante le vacanze in Abruzzo, gli ombrelloni dello stabilimento balneare, il mare e scatti con amici sulla riva. Il diciassettenne condivideva con i suoi coitanei la passione per la pallavolo ed era inserito con i giovani del posto. Dopo diversi giorni di vacanza per la famiglia era arrivato il momento del rientro in città alla cosiddetta normalità. Cosa sia successo nella mente del ragazzo è ancora da chiarire. Lui stesso, confessando il triplice delitto agli investigatori, ha parlato di un malessere. In conferenza stampa gli inquirenti hanno spiegato che non c'è un muovente tecnicamente inteso dal punto di vista giudiziario, mentre sul piano sociologico sono aperte varie strade e indagini. Una notizia al genere la sconvolge? Cioè sapere che un ragazzo così giovane commetta... Ammazzare il padre, la madre e il fratellino è una cosa indescrivibile. No, inaccettabile. Pensiero, un commento? Perché la famiglia veniva al mare qui, ecco. No commento. Cosa ne pensa? Meglio di no. Non potrei più di tanto giudicare. Diciamo alla base è sicuramente un atto mostruoso, però più di questo non ne posso dire, non so veramente niente. Però, come penso il 100% delle persone saranno d'accordo con me, un atto del genere è a dir poco mostruoso, qualcosa di terribile che in Turia non dovrebbe mai accadere. E come avete visto non c'è molta voglia di parlare dopo quanto accaduto. Sono davvero tutti sconvolti per il triplice omicidio avvenuto nel milanese che in qualche modo tocca il territorio di Martinsicuro. Del resto, come vedete, la stagione volge al termine. Le spiagge sono semivuote, il cielo è plumbeo e davvero la comunità è senza parole per quel che è accaduto. Un fatto che davvero nessuno poteva immaginare, a partire dagli amici del 17enne fino a quanti conoscevano i genitori del ragazzo. E restiamo nel Teramano perché sono trascorsi nove anni dalla morte della 19enne Giulia Di Sabatino per la procura di Teramo. Si sarebbe lanciata da un viadotto sull'A14 ma per la famiglia è stata uccisa. Rossella Luciani. Una morte ancora senza colpevoli, quella di Giulia Di Sabatino, avvenuta il primo settembre del 2015. Sono passati nove anni da quella tragica notte quando la 19enne è stata trovata in A14 delaniata dalle auto. Il riconoscimento cadaverico è avvenuto grazie ad una scarpa. Giulia la sera prima aveva finito di lavorare in un ristorante di Tortoreto ma a casa non è più tornata. Per la procura di Teramo, che ha archiviato il caso come suicidio, si sarebbe lanciata da un viadotto ma per i genitori c'è altro. Giulia, che non aveva con sé il telefono, si sarebbe diretta a piedi verso una sala bullying dove la aspettavano alcuni amici. C'era anche il giuliese Francesco Giuseppe Totaro, assolto per istigazione al suicidio e poi alla sbarra per induzione alla prostituzione minorile e pedopornografia minorile in un processo in cui i familiari di Giulia si sono costituiti parte civile. Un'amica di Giulia ha raccontato di aver conosciuto Totaro quando era ancora una minorenne e di averlo presentato al gruppo delle sue amiche di Tortoreto, tra cui Giulia. I genitori della vittima continuano a chiedere giustizia per questo giallo come hanno fatto più volte nel corso delle trasmissioni di Vera TV. In ultimo mi oppongo. 134.000 file che ci fanno paura. Il marcio che finora è stato nascosto sotto il tappeto deve uscire. Lui ad un certo punto in un'intercettazione dice io ormai vi domino completamente, vi faccio fare delle cose che non avreste mai potuto fare. Quindi lì dimostra in pratica il dominio che aveva su queste ragazze questo soggetto qui. Si era allontanata e si era anche in qualche modo dissociata da tutta una serie di condotte che le avevano coinvolte, in particolare il riferimento naturalmente è alla vicenda legata al processo per pedopornografia che si sta tenendo ora e in cui anche lei chiaramente è persona offesa. E quindi aveva sicuramente lavorato con una certa sofferenza, per amor del cielo, una parte della sua vita ponendo termine per quel tipo di attività e volendo ricostruire altrove, perché era diretta a Londra, aveva già fatto il biglietto, aveva già fatto la valigia, quindi era questione veramente di pochi giorni e avrebbe cambiato vita. Una vita che si è spezzata a soli 19 anni per cause ancora misteriose. La crona calietto fine per un 45enne di Montesilvano rintracciato ieri a Martinsicuro dopo la denuncia di scomparsa che era stata sforta qualche giorno fa dai familiari. L'uomo non dava più notizie di sé da giovedì 29 agosto. I genitori non vedendolo più fa rientro a casa avevano lanciato l'allarme presso i carabinieri della stazione di Montesilvano. La prefettura di Pescara ha convocato il tavolo tecnico per monitorare le ricerche che sono scattate immediatamente nel Pescarese, coordinate nel territorio aprutino dalla prefettura di Teramo. Una pattuglia dei carabinieri di Martinsicuro è riuscita a riconoscere il 45enne mentre si aggirava sul lungomare in stato confusionale. L'uomo è stato soccorso e rinfocillato dai militari dell'arma che dopo le opportune verifiche sul fatto che si trattasse proprio dell'uomo scomparso da Montesilvano hanno contattato i familiari giunti prontamente a Martinsicuro per riabbracciarlo e riportarlo a casa. Abbattimento di 500 cervi in Abruzzo. La petizione per evitarla sfiora le 100.000 firme. Ascoltiamo Sergio Cinquino. È arrivata quasi a quota 100.000 firme la petizione del WWF di tanti animalisti sulla piattaforma change.org per salvare i quasi 500 cervi abruzzesi ai quali, secondo la delibera dello scorso agosto della regione Abruzzo, si potrà sparare da ottobre. Una delibera che i firmatari chiedono che venga ritirata. E tra i firmatari anche i nomi di registi, attori e persone del mondo della cultura e dello spettacolo. Dalla regista Riccardo Milani all'attore Alessandro Gasman si sono aggiunti i nomi delle scrittrici, Dacia Maraini e adesso anche di Donatella di Pietrantonio, recente vincitrice del premio Strega con il romanzo L'età fragile, che in un videomessaggio rivolgendosi al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, dice, presidente, sparerebbe a questo cervo con un piccolo inquadrato. Sì, perché con un premio di 50 euro sarà possibile sparare anche ai bambi. Non siamo la regione degli abbattimenti di animali, dice la di Pietrantonio, rinforzando l'appello lanciato nei giorni scorsi anche ai nostri microfoni dalla delegata del WWF Abruzzo, Filomena Ricci. E intanto dalla regione arrivano le risposte per un provvedimento che sta destando l'indignazione non solo degli animalisti nella cosiddetta regione dei parchi, che proprio del rapporto virtuoso tra animali e uomini fa il suo punto di forza. E arriva la risposta della regione. L'assessore Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta con delega alla caccia, replica dicendo che non esiste un caso Abruzzo, perché i cervi, cuccioli e adulti vengono già abbattuti in altre sette regioni d'Italia e presenta l'indagine comparativa con le informazioni sulla caccia selettiva che vedono altre regioni come il Piemonte con oltre 3.000 capi da abbattere negli ambiti territoriali a guidare la classifica seguito da Friuli e Toscana. Presidente Massiglio, prima che lei e la sua giunta andiate avanti con questa delibera che prevede l'abbattimento di 469 cervi in Abruzzo, notizia che ha fatto il giro di tutti i giornali e siti italiani, mi appello alla sua sensibilità di persona e di governatore per fermare questa decisione e aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori in causa. Noi abbiamo un'identità forte, verde, naturale e naturalistica, noi non possiamo distruggere questa nostra immagine in Italia e nel mondo, non possiamo distruggere la nostra identità, noi non possiamo diventare da regione dei parchi a regione della caccia. Tantissimi turisti vengono in Abruzzo anche per vedere gli animali, avremmo un danno di immagine e quindi anche un danno economico diverso, ma comunque un danno. Non distruggiamo la nostra identità, la nostra verità più profonda che comprende la coabitazione tra uomini e selvatici. Ed ora ci occupiamo della centrale Snam a Sulmona, al via le prime opere di cantiere, interventi di rinforzo del terreno in località Case Pente. Matteo Porfiri. Le prime opere di cantiere sono partite. Snam avvia a Sulmona i lavori di costruzione della centrale di compressione del gas naturale a servizio del gasdotto Rete Adriatica. Il ministero competente ha infatti dato il via libera a operare su una parte dell'area di Case Pente, quella non interessata dai ritrovamenti archeologici per i quali gli scavi sono ancora in corso. Si tratta di lavori di fortificazione del terreno in vista della realizzazione della centrale di spinta. Gli ultimi rinvenimenti archeologici non hanno fermato la società che, da quanto si è appreso come avvenuto per altre opere in altri territori, avrebbe già dato ampia disponibilità alla soprintendenza per sostenere progetti di recupero e valorizzazione di tutte le scoperte archeologiche. Nel cantiere di Case Pente sono arrivati i container per avviare i lavori veri e propri. Da oggi si comincia con gli interventi di rinforzo del terreno in vista della costruzione dell'opera. La centrale di compressione di spinta, autorizzata dal governo nel 2018, sarà pronta entro l'autunno-inverno del 2026. I lavori, che dovevano partire a giugno scorso e sono slittati per consentire gli scavi archeologici ancora in corso, dureranno circa due anni. Il cantiere è stato allestito nel marzo dello scorso anno. Apriamo l'ampia pagina sportiva. Il Pescara di Baldini, beffato al 96esimo, pareggia con la Torres in casa 2-2, ma conquista i tifosi dell'Adriatico. Sfiorata la vittoria in rimonta. Sergio Cinquino. Alla fine il rimpianto è tangibile, ma il 2-2 casalingo del Pescara con la Torres vale più del punto che muove la classifica e porta il Biancazzurri a quota 3 dopo le prime due giornate di campionato. Un pari che il Pescara di Baldini subisce nell'ultimo dei sei minuti di recupero, dopo aver giocato un ottimo secondo tempo e aver rimontato i sardi, grazie a una prova gagliarda, organizzati e pronti a colpire in contropiede gli uomini di Greco, protagonisti di un primo tempo impeccabile che aveva portato a mettere in seria difficoltà il nuovo Pescara nel suo esordio all'Adriatico nel primo assetto post-mercato e con Valzani appena arrivato, portato in panchina e Staver al posto dell'infortunato Pierozzi. In difesa a destra, subito vicino al gol del vantaggio, gli ospiti con Fischnaller, con Guibre sempre pericoloso e Scotto pronto a fare la differenza con il portiere biancazzurro Plizzari, protagonista e così proprio l'attaccante trova il gol del vantaggio meritato con Scotto lasciato solo al centro dell'area al termine di un'azione che vale l'1-0 meritato. Il Pescara sembra le corde, va negli spogliatoi tra la delusione dei 4.500 sugli spalti, ma nella ripresa la musica cambia, i biancazzurri sembrano un'altra squadra, Vergani migliori in campo, corre su tutti i palloni e il Pescara segna, ma il gol viene annullato per una spinta di Brosco in area. Entra Ferraris al posto di Bentivegna, l'attaccante risulta decisivo, Vergani conquista un altro pallone e costringe la difesa ospite a sbagliare, assist di D'Agasso e Vergani sfiora il gol sul tapin, bravo poi Ferraris a farsi trovare pronto per il pareggio nel suo primo gol tra i professionisti. Pescara in pressing è devastante e chiude la Torres, Vergani ruba un altro pallone al 44esimo e dopo una volata di 30 metri serve Cangiano che con un tiro a giro non lascia scampo a Zaccagno. Sembra fatta con l'entusiasmo sugli spalti e la curva nord in estasi, ma ci pensa Masala a gelare i tifosi con un gol al cinquantesimo che riporta la partita in parità prima del triplice fischio finale dell'arbitro Bogliacco. Per il Pescara è una beffa, ma i tifosi chiamano la squadra sotto la curva. Questo Pescara piace perché vuole vincere. Sabato sera a Rimini ci riproverà. La serie di con l'Aquila che vince di misura il derby di Coppa Italia con il notaresco. Basta il gol di Giampaolo alla prima rete in rosso-blu. Vediamo. Magari senza brillare, con una gara attenta e poco scintillante l'Aquila trova la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia piegando di misura il notaresco. Ci ha pensato Daniel Giampaolo a mettere la firma sull'1-0 che manda la squadra di pagliare ai 32esimi di finale quando il clima sarà molto diverso da quello quasi asfissiante del pomeriggio aquilano. Per noi di casa col 4-3 senza Belloni sostituito davanti da Guido Baldi con Casella terzino-sinistro, 3-5-2 per il notaresco, Forcini-Carrozzo coppia d'attacco con Persano out per precauzione. Nessun timore reverenziale per la formazione di evangelisti. Arrigoni ha in mano le chiavi della squadra e al sesto già ci prova dalla distanza prima di pennellare. Un minuto 22 la punizione per la testa di Ferri. Il ritmo non è elevato. Il caldo a tratti insopportabile del Gran Sasso d'Italia non agevola nessuno dei protagonisti ma quando può la formazione ospite prova a pungere come al 25esimo con la discesa di braccia Michelin chiude su Forcini. L'Aquila ci prova per via aerea e il capitano Brunetti manca la porta ma contrastato tutto solo invece Guido Baldi sul servizio raffinatissimo di Giampaolo al 34esimo sfera alla sinistra del palo di Lolimo. Ancora meno squili in una ripresa davvero al piccolo trotto. Pagliari squalificato in tribuna cambia due terzi della mediana addentro Giandonato e Mantini per Misuraca e Marcucci. Il notaresco gioca la carta a sale e poi anche Pellacani poco prima e siamo al 74esimo che un rilancio errato di Loliva Spiani e la strada recupero palla dell'Aquila con Mantini. Giampaolo si sistema la sfera sul piede destro e fulmina estremo difensore ospite sul primo palo. Prima rete ufficiale con la nuova maglia per l'ex re canatese. Toccato duro il notaresco avrebbe una potenziale buona chance per riequilibrare la contesa. Ferri trova Sal e questi Pellacani che in area va a terra. Per Cavacini è tutto regolare e poi di Bartolo manca e non di poco lo specchio della porta mentre il corner direttamente in porta di Errigone al novantesimo è alzato da Michelin senza rischiare. Ma è il neo entrato Caglialla all'ultimo respiro col destro a mancare di poco l'incrocio dei pali. Termina 1-0 ma il clima e il pensiero. Vanno già al campionato con le due rosso-blu che saranno impegnate tra le mura amiche alla conquista dei tre punti di un lungo, lunghissimo cammino. Il Teramo è stato eliminato in Coppa Italia a Termoli ai rigori dopo l'1-1 al novantesimo. Mister Pomante pensa già all'esordio in campionato di domenica ma vediamo come è andata ieri in Molise. Il città di Teramo esce dalla Coppa Italia dunque al primo turno viene eliminato ma solo i calci di rigore in trasferta sul campo del Termoli. La gara però è terminata 1-1 dunque un primo tempo meglio giocato dai biancorossi che hanno avuto un paio di occasioni in apertura con Pavone tra i migliori in campo, un palo colpito e poi un tiro rispinto dal portiere. Alla fine dei primi 45 minuti è Tourè oggi preferito a De Gidio a portare in vantaggio il Teramo. Poi nella ripresa parte meglio il Termoli che nei primi 10 minuti trova il pareggio con punteriere. Poi la gara, il Teramo che cala un po' fisicamente e anche mentalmente ma non ci sono grosse occasioni né da una parte né dall'altra e si va fino alla fine della gara con il punteggio di parità 1-1. Poi calci di rigore, sbaglia Esposito invece realizza Alzot per il Termoli. Dunque un Teramo che dicevamo esce a testa alta perché soprattutto nel primo tempo la squadra ha dimostrato di avere buoni spunti ma domenica sarà già campionato trasferta ancora per i biancorossi a Fossombrone. Inizia la stagione, inizia veramente il campionato, partite vere, partita difficile. E' vero che usciamo a testa alta da questa partita però abbiamo sempre perso quindi dobbiamo capire perché abbiamo perso e dobbiamo cercare di non portare gli errori che abbiamo fatto oggi nella partita di Fossombrone perché incontriamo una squadra che su Campoloro ha sempre fatto bene soprattutto l'anno scorso, una squadra solida quindi ci vorrà il miglior termo per portare a casa la vittoria. E si è fermata ieri anche l'avventura del Chieti in Coppa, Tiatini sconfitti 2-0 a Civitanova. Il Chieti abbandona subito la Coppa Italia, il primo turno se lo aggiudica la Civitanovese con due gol realizzati nella ripresa e accede così al turno successivo. La chiave della partita è tutta nei 20 giorni di preparazione in più dei rosso-blu che si faranno sentire nella ripresa. Nel primo undici ufficiale di Gnoffo spicca l'assenza di Torre che ben aveva impressionato nel precampionato. Buono l'approccio dei neroverdi al match, prima però Spagna lanciato in profondità non trova nessun compagno all'appuntamento con il gol. Providenziale nell'occasione la chiusura di Guerriero. Buon palleggio, tanta corsa e verticalizzazione così il Chieti arriva a creare la sua prima nitida palla-gol con Della Quercia che da corner impegna severamente Petrucci. Dal corner seguente una serie di rimpalli mettono Forgione in condizione di stoccare a rete, palla fuori. Nonostante la canicola, il Chieti del primo tempo dimostra di avere anche una discreta tenuta fisica Forgione recupera palla e serve il meglio piazzato falle, girata debole la sua. Il trend cambia leggermente sul finale di tempo a favore dei locali. Spagna calamita la sfera e col destro tenta l'Euro-gol, pallone a lato. Questa l'ultima emozione dei primi 45 minuti. Squadre subito allungate e schemi che saltano dopo pochi minuti. All'undicesimo, dalla distanza ci prova Domizzi, Mercorelli si allunga e dice no al centrocampista. Questione di minuti e si sblocca la gara ancora a Spagna. Il migliore in campo illumina l'inserimento di Brunette che fulmina Mercorelli da distanza ravvicinata. La prima fatica stagionale e il gol di svantaggio complicano i piani dei Nero-Verdi che comunque a dieci dalla fine anno di nuovo sui piedi del suo capitano una potenziale occasione da rete ma che cestina sopra la traversa. In pieno recupero c'è tempo per vedere anche il 2-0 siglato da Rotondo dalla distanza approfittando di Mercorelli in zona avanzata per Darmanforte e suoi alla ricerca del pari. Nero-Verdi che chiuderanno in dieci uomini per l'espulsione per proteste di Guerriero. Ora testa al campionato. Domenica per i teatini. Subito il derby contro l'Avezzano. Si interrompe il cammino di Coppa dell'Avezzano. Al secondo turno della competizione va il Cassino che si è imposto per 2-0 nel match dello stadio Gino Salveti che si è disputato a porte chiuse a causa della squalifica subita dalla squadra naziale in occasione dell'ultima gara di play-off dello scorso campionato. La squadra di Pagliarini tiene bene il campo nel primo tempo ma nel finale subisce la rete dello svantaggio. Poi nella ripresa l'espulsione di Passegue, tra i migliori nel primo tempo, mette la strada in discesa per il Cassino. Senza Ferrani e Lapenna Pagliarini opta per Senese al centro della difesa. Pensa al fine interno di centrocampo con Luciani e Mascella. Tridente e Bolo vantaggiato Passegue partono dalla panchina Tonelli, Litteri e De Silvestro. Lo spunto di Maciariello insidia l'Avezzano al decimo ma Zuccaro riesce a rimediare. Come detto Passegue è attivo. Spina nel fianco della difesa del Cassino e sforna assist a ripetizione. Intorno al quarto d'ora il destinatario principale è Bolo. Nel primo caso l'argentino viene murato, sul secondo ci abbatta una conclusione che si perde di poco a lato. L'esterno liberiano ancora attivo prima della mezz'ora, pallone a Luciani che però neanche lui è preciso. Nel Cassino in evidenza l'ex francavile notaresco Mele che catalizza tutti i palloni. Mentre al 34esimo i padroni di Cassa si fanno rivedere dalle parti di Zuccaro con l'ex traditi che serve Gomez che non inquadra la porta. Il Cassino allenato dall'ex centrocampista dell'Aquila Imperio Carcione passa in vantaggio allo scadere del tempo. Gran palla di Carnevale per il taglio di Abreu che brucia Senese il quale si scontra anche con Zuccaro. Il portoghese ringrazia e insacca con destrezza. Dopo l'intervallo Pagliarini avvicenda le punte fuori vantaggiato dentro Litteri. Bolo ci prova al secondo da calcio piazzato. Palla sull'esterno della rete. Due minuti dopo Abreu cerca il gran gol dalla distanza. Zuccaro glielo nega. L'ultima svolta al quarto d'ora. Il tiro di Bolo corretto da Maciariello è sventato da un gran riflesso distellato. Prima del seguente corner gomitata di Passewe a Maciariello pizzicata dal primo assistente che riporta al direttore di gara Maione di Ercolano. Inevitabile il rosso diretto. In dieci uomini l'Avezzano si spegne. Il Cassino va per il colpo del K.O. Abreu ci prova al volo prima della mezz'ora. Poi al 34esimo il portoghese indossa i panni dell'assistman e serve a Magliocchetti, un pallone facile da mettere in rete per il definitivo 2-0. Per l'Avezzano ora attenzioni solo sul campionato e domenica si parte subito forte con il derby del Dei Marsi contro il Chieti. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata con i programmi sul Canale 79. Arrivederci.